Ehi, speravo di trovarti qui. Hai un bel aspetto. Le ferite sono guarite velocemente. Ho sentito mio padre parlare con gli altri. Diceva che ora sei della famiglia, quindi significa che sono tuo fratelli. La mia famiglia ti accoglie. Cresceremo insieme, banchetteremo insieme e salteremo nella neve insieme. Spero ti faccia piacere. Io ne sono vieto. Che cosa stai costruendo ora? Due case o una collina e una montagna? Questo è mio padre Varin e questo è Chiotvello spietato. Appoggiati. Ti accompagno a casa. Grazie. 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 Grazie.